Bene, dopo ieri che sono riuscito a fare tutti e tre i video giornalieri, cerchiamo di farli anche la domenica, sarebbe carino. Che succede? Tutti fuori che cazzo succede? Aiuto. L'audio? Va bene. Bene, vorrei che raccogliesse questi ingredienti prima della nostra prossima lezione. Spero di non essere impresso nulla a causa di qualche bug o altro. Certo, incantesimi stava al... boh. A secondo piano, ok. Questi giorni dell'anno sono i giorni in cui io festeggio il mio anniversario con Doki Doki. Non ho una ragazza, non l'ho mai, quindi festeggio il mio anniversario con Monica. Il mio anniversario... L'anniversario della mia relazione tra Monica e le altre. È tutto molto fucking triste. Come la mia vita, d'altronde. Quindi, niente, le decisioni sono nettamente preso da... Da festeggiamenti mentali, perché... Non è che mi metta a Cristo a decorare la casa a tema Doki Doki. Però... Però, vi dirò che rigiocarmelo per la terza volta, così male non è. Lei si deve la cassa. Giocarmelo per la terza volta, non in live, non... Per conto mio, stavolta. Godarmelo. Come mi ricordo, in realtà, anche nei video. Che puoi giocarmelo. Non credo di rigiocarmelo effettivamente tutto di nuovo. Però... Si potrebbe anche fare. Carperetractum, madonna. Nel riportere il calice di fuoco lo utilizzavo moltissimo. Soprattutto nella... Serodebologia. Signorina Granger, vorresti essere così gentile da venire qui davanti con Harry. Ma è appena arrivato. Ora, tocca a voi trovare il libro dell'incantesimo Carperetractum. E' un po' di laminamento. Ok, le canzoni di capezza non uscianno mai dalla mia testa. Ma tutto non succedeva mai se io continuo ad ascoltarle a ripetizione. Che succede? Ma mi stanno davvero attaccando delle lanterne? Questo gioca è un capolavoro. Questo gioca... Fa un culo. Questo gioca è assolutamente un capolavoro. Ok. Vieni qui. Ok. Altri stronti, sì. Sì, veramente è una pezza di novità. Andato. Oh, alti punti. Dai che sono indietro rispetto... Siamo indietro rispetto alle altre. Tanto non vincemo mai il... Il coso, il... La coppa della casa, non mi veniva il no. Ehm... Allora, devo un attimo... Quindi... Ehi... Poi... Vron. E infine Mjoln. Vak e... Enigmi. Che è stato il giocavo? No. Cerca di spostarti di lì. Ok. Vai. Ma perché mi va a derri? Ancora? No. Fanculo. Io... Concentratissimi. Cercare di farlo decentemente. Dai, a meno Mimo. Ok. Va bene. No. Mi sento molto bene. Ma Mgron è tipo un movente? Sta malissimo. Sta malissimo. Io ne sono uscita bene. Eri a posto. Ron e fin di vita. Bene. Ma non volevo mai. Ok. Beh, allora. Il piano è questo. Fare andare loro due. Ma siamo alti uguali. Non... In me ne si è offesa. Ma che ca... Ma... Quanto indietro devo partire? Non dimenticherai di noi, vero? No, non succede. Fidati. Non garantiscono. Dove cazzo sono? Troppo? Vabbè, lì la preparo. Aspetta. Ma l'avevo scordato. Esatto. Buono, gliene ha a fare un cazzo. Perché non credo di dover nuotare. Non credo nemmeno esatto. Non sapevo nemmeno esserci la possibilità di nuotare. Quindi... Ah, non credo nemmeno esserci la possibilità di nuotare. Affanculo. Pensavo di dover fare tutto il percorsino, invece no. Ok. Ma cazzo. Ma sono lì, puttana troia, di quella vacca impestata dalla lebra. Sì. Sì. Ok. 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 Allora Ma vaffanculo dai Sbrigati che porca puttana Ok Dai su che ci abbiamo i tempi ristretti Ma perchè è lì? Boh Scelta misteriosa Ok Beh Facciamo unire gli altri Credo che il piano sia quello Esatto, molto bene Allora Poi posso fare questa mossa Anche per conesto No Sono stata avvelenata Mi serve un po' di antidoto Eh Ok Sto sentendo gli effetti del veleno Ho bisogno dell'antidoto Eh quindi Cioè sei veramente un cane Lasciatelo dire Io gli altri due stronzi Li ho lasciati dietro Allora Allora Dai cazzo Dai cazzo Dai cazzo Dai cazzo Ah mi serve Glacius Però perdono Glacius Percare la scaletta Più finta Dell'universo Quello non so cosa sia Tu Ok Ok Ti no non gli piace va bene allora figlio della merda dai ah ma vaffanculo era lì che dovevo salire poi non sul non sulla scatola ma che cazzo si sta buggando moltissimo oggi c'è una torna non è mai stato completamente stabile oggi sta andando un po' meglio di sé madonna ai miei ogni volta ok no no sì no 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 E cosa ottengo? Sono molto confuso Affanculo Ho sbagliato tanto Molto confuso Ho sbagliato Ok Vaffanculo C'è il pazzisco Cristo, se io ho un nemico Puttana è va Mi fa scherare Allora Poi Un po' di tossina Eh, tua sorella è poi No 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 Si Devo fargli fare tutto il giro Davvero Allora Allora No puttana è va Ok Ma che sto sclerando Molto Eh Comandi Porca No No Si Oh C'è l'ho fatta? No Io onesto Volevo Volevo lasciarli lì Per ridere Per ridere Aspetta eh Che qui c'è un problema tecnico Se la X non mi serve un cazzo Perché non la posso utilizzare Perché non posso assegnarci Un incantesimo Due sono un filo Troppo limitativo Bene Un attimo che rispondo Telefono Ok mi sono lavato Nello stacco E quindi Ma le texture È tutto Aiuto Hai avvoluto Quindi Il Il Falle rimanere lì giù Caino Reparo Lì Adesso c'è altro Qua No Devo Ah Perché per tirare una leva Ah no Spera La mossa è questa La mossa non è questa Ok Via Ottimo Qui su Io vedo qui Io vedo roba Qui laterale Un cazzo di niente Perfetto Volevo Gentilissimo Che è un fase di cristo Vabbè salita Da soli Non voglio Di fare il percorsino Non è che stiamo salendo No Se mi dici prova Voglio dire chiusa No Io ho provato con Harry Mi sono bloccato Palese che mi sia bloccato E il mio E il mio ne Cosa cazzo Sta facendo Allora Niente Loro cazzeggono qui Ah Vaffanculo Harry No Io posso anche salire Però Poi Perché però Madonna Madonna La faccia di Ron È terribile Non ci avevo mai fatto caso Amici Io non so che cazzo fare E invece sì Vaffanculo Devo salire davvero Su quelle stronzate Dov'è? Ma poi come Ma perché Vaffanculo Anche Amicizia Aspetta Quella Sto bene Adesso Trova un modo Per tirarmi fuori Da qui Ma ci sarebbe Un modo Semplicissimo No Il cazzo Non posso Reattavversare Il muro È vero Ok Vaffanculo Dai cazzo No Una volta il lock automatico Cazzo è servito Una volta Unica volta in cui il lock automatico Cazzo si è reso utile Merda No Va bene comunque No Fanculo Bastardo maledetto Ma è che si stava baggando male proprio Ron è ancora lì tutto morto Vabbè vaffanculo proseguo con il mio Chiaramente dovrebbe seguirmi Non dovrebbe io male lì a farsi i cazzi suoi No Infatti mi ha seguito Allora Prevedo un enigma Complicato Dai No Egnone Fanculo Dai Ah perché non lo stai mirando Ecco Vai Perché ora vomita l'acqua Qual è il collegamento tra le due cose L'acqua Tu cosa sei? Boh Niente il buon Ron Ancora soft Ci sono a 70 Sì Allora qui giù ci può rimanere Ci può andare solo Qui giù Qui su Può andarci solo Lei Che ha Pi' incantesimi di tutti Quello che mi chiedo È Quanto cazzo manca alla fine del gioco Credo un bel po' A livello di storia non riesco a basarmi Perché Cazzo Non è che mi sia esattamente chiaro Mi hanno potuto strutturare il tutto Però A parte quello Con Lei Alla quale mancano Ancora Questi incantesimi Tutti incantesimi A Ron Manca un incantesimo E Un'altra roba A Harry Manca Credo un po' il mondo Quindi boh Un'altra roba 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 devo così io giro tipo un mappa clima piacevole sì mi sono bloccato